L'unico documento, oltre alle foto di provenienza tedesca, che accerta dell'eccidio del 12 settembre del 1943 a Barletta, la rappresaglia nazista per la morte di un loro militare costata la vita a 12 persone, 10 vigili urbani e 2 netturbini. Si salvò, nascosto sotto i cadaveri, il 28enne Paolo Falconetti, portato in ospedale da due donne che erano scese in strada, allarmate dagli spari. La sua cartella clinica è stata recuperata, un foglio inedito che insieme ai fotogrammi in bianco e nero e le testimonianze di chi c'era, racconta dalla resistenza che 79 anni fa la città, medaglia d'oro al valor militare e al merito civile, oppose all'invasore che era in ritirata dopo l'armistizio dell'8 settembre. Questo è un documento molto significativo perché ci fa sapere cosa è successo dopo il salvataggio del vigile urbano Falconetti Francesco Paolo. Adesso che certezze abbiamo in più? Abbiamo certezze che Falconetti, come risulta dalla cartella clinica, fu ferito il giorno 12 settembre sulla parete a sinistra dell'ufficio postale di Barletta. Quindi se quella è una situazione acclarata, questa è la conferma che lì effettivamente qualcosa successe quel giorno.